Sono Alfredo Somoza, candidato nella circoscrizione Nord-Ovest. Con la lista per l'altra Europa con Sipras vogliamo invertire rotta, impegnandoci per costruire un'Europa sociale insieme a quella della moneta. Vogliamo controbattere il potere senza limite di banche, lobby e multinazionali. L'enormità della posto in gioco richiede che ognuno di noi si impegni. Io ci sono.